Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Leonardo Gasperoni che mi chiede di parlare del film del 2019 di Vincenzo Natali L'erba alta, tratto dal romanzo di Stephen King e del figlio Joe Hill con un inizio che sembra quasi ricordare con l'arrivo loro che entrano nel campo Grano Rosso Sangue, sempre dello stesso Stephen King e il film è diretto da Vincenzo Natali Vincenzo Natali, regista clamoroso di Cypher, Il Cubo, di Splice che è costretto a girare un film per Netflix e questa è una delle vergogne più grosse dell'universo e anche il cortometraggio, il meglio che ha fatto per Guglielmo del Toro era molto bello, cosa aspettate a ridare un progetto serio scritto da se stesso, dal grande Vincenzo Natali che anche in questo film dimostra tutte le sue abilità tecniche in questo senso, assolutamente nella storia di questi due ragazzi, Becky Meddad e Carl che stanno andando praticamente verso una clinica privata perché la nostra vuole abortire e che si fermano a un certo punto perché sentono da un campo la voce di un ragazzino che chiede aiuto quindi parcheggiano qui davanti entrano dentro questo campo però poi quando trovano il ragazzino incominciano a sperdersi sentono la voce ma si rendono conto che in questo campo c'è qualcosa che non funziona ed incominciano a incontrare altri personaggi che sembrerebbero essere sperzi dentro questo campo e dove sembrerebbe che il giorno, la notte la morte, la vita si scontrino attraverso un mondo appunto stranio che vive all'interno appunto di questo campo al quale nel centro c'è questa pietra che dovrebbe essere anche il centro degli Stati Uniti e che dovrebbe fare qualcosa di molto particolare non vi dico cosa toccandola poi chiaramente arrivano sempre più personaggi arriva il ragazzo che va messo in cinta la nostra Becky che cerca a tutti i costi di convincere quando la trova a non mollare il bambino poi abbiamo un'altra famiglia tra cui Ross appunto interpretato da Patrick Wilson che diventerà una specie di cattivo nel secondo atto per un film che tutto sommato ha dalla sua la grande tecnica la grande mestiere e il talento di Vincenzo Natali che quindi riesce a portare a casa un film tutto sommato gradevole ma nulla più perché ogni tanto si incarta si incarta da situazioni un po' ripetitive un po' troppo confuse in alcuni momenti che però insomma tutto sommato riescono anche a far stordire lo spettatore sono interessanti alcuni colpi di scena sono bravi tutti gli attori quello niente da dire anche nei ruoli dei protagonisti Harrison Gilberton è un ottimo Travis il ragazzo appunto che tornerà a cercare la nostra che sentirà gli urli e che anche lui andrà vista la macchina dentro appunto a questo campo e nel complesso il film ripeto funziona ma non tanto per una sceneggiatura ripeto che mi sembra anche buona il soggetto mi sembra un po' abusato però insomma la sceneggiatura fila abbastanza bene ripeto nonostante sia un po' confusa ma credo sia volutamente così resta il fatto che comunque si riesce a stare attaccato è lo schermo un film che non si abbandona minimamente ed è un ennesimo dispiacere vedere che Vincenzo Natali deve andare su commissione il campo dove hanno girato è completamente vero niente computer grafico ottimo bellissima l'idea del corvo morto e che i corpi morti non possono cambiare posto all'interno di questo campo che in un certo senso ricorda il cubo per alcune cose Vincenzo Natali si vede si vede in alcune scelte dei protagonisti che cambiano si vede in determinate cose che lui ha scritto però si vede anche che il soggetto è kingiano di Joil fino alla morte e questo un minimo secondo me rallenta la forza creativa di un Natali che solitamente parte da solo va da solo scrive dalle sue storie direttamente qui si adegua a scrivere una sceneggiatura comunque di discreto livello per portare avanti un film che si lascia guardare volentieri come ho detto per gli attori per la cura della messa in scena sicuramente una bella fotografia delle belle musiche di Mark Coven tutto quello che dovrebbe fare un buon film ma ripeto anche a livello di opinioni di recensioni di critico è anche difficile non si riesce a capire sembra un film che ogni tanto ha una profondità di campo enorme che in televisione non riusciamo a riprendere dei movimenti di macchina che sono ottimi ma che se non si perdono sul piccolo schermo bene per lui che lavora ma male per noi che ci siamo persi uno che insomma fin fine è un film che si guarda abbastanza volentieri va via a dalle momenti di tensione come ho detto dal cinema la musica tutto il resto avrebbe sicuramente amplificato questa sensazione grottesca questa sensazione di perdita completa all'interno di questo campo che sia una perdita d'amore una perdita di tradimento una perdita fisica una perdita di intelletto una perdita della normalità per diventare follia tutto questo è raccontato abbastanza bene in un film che ripeto ha delle belle scene veramente girate da Dio due o tre sequenze notevoli un'idea di partenza è un po' così che viene però sviluppata abbastanza bene è una sceneggiatura che però ripeto se non è sul finale si incarta un po' su se stessa nonostante riesca a inquietare abbastanza bene riesca a tenerci lì insomma in questo film che parla di loop temporali di rituali pagani con un finale abbastanza particolare troviamo tanta della forza di Vincenzo Natali tante delle idee appunto di Stephen King e del figlio che vengono sviluppate abbastanza bene se si considera insomma che è un film fatto per la televisione che secondo me però da come è girato sembrerebbe essere fatto per il grande schermo da formato e tutto il resto e quindi che dirvi di più in questo film dove al solito si mescola un po' di voglia di redenzione i personaggi hanno sempre qualcosa da nascondere o da cambiare insomma la vita e tutto il resto il nostro Natali tira fuori un film tutto sommato gradevole niente di eccezionale ma se per essere un film di Netflix è veramente uno dei migliori che ha e riesce a tirar fuori un'altra volta le capacità di scrittura innate e soprattutto di messa in scena di un Natali che ripeto che cazzo ci sta a fare su Netflix deve andare sul grande schermo perché quella è casa sua questo nell'erba alta è sicuramente il suo film peggiore ma insomma per essere un film Netflix vorrebbero tanto gli altri avvicinarci sia anche almeno al 10% quindi tempo non buttato purtroppo non vi posso dire che il link è qui sotto perché Netflix è simpatica i film non ce li fa a comprare quindi anche io l'ho visto una volta quando uscì perché lo vedi a casa di un amico che c'era a Netflix e questa è una recensione di un ricordo un ricordo anche abbastanza forte perché Natali l'ho seguito sempre con attenzione e quindi ho seguito anche questo film con attenzione anche poi perché era tratto da King che io ho sempre amato ripeto tutto l'insieme dei fattori comunque non tira fuori il risultato sperato ovvero un grandissimo film resta il fatto che comunque ci si può divertire donate sul Patreon mi piace iscrivetevi al canale qui sotto c'è il pulsante del suo grazie per donare direttamente su YouTube seguitemi su Facebook e su Instagram e speriamo che Vincenzo Natali ritrovi il coraggio e i soldi e soprattutto i produttori per poter fare uno dei suoi grandi film per il grande schermo cazzo